Campagna elettorale che volge al termine, della quale almeno un aspetto ha messo tutti d'accordo, tutti impreparati e catapultati all'improvviso in un tour di liste, programmi ed incontri con gli elettori. A Taranto chiude la sua campagna elettorale anche il senatore Mario Turco, con lui in piazza a Maria Immacolata il coordinatore provinciale del Movimento 5 Stelle, Francesco Nevoli. Il presidente Conte con la sua forza è riuscito a trascinare tanta gente nelle piazze, i sondaggi ci danno in netto rialzo, siamo tra la seconda e la terza forza politica del paese, dobbiamo continuare a spingere sull'acceleratore fino a domenica. Il Movimento 5 Stelle a livello nazionale ha realizzato l'80% del programma che era stato previsto nel 2018, noi ci auguriamo di realizzare il 100% del programma per le amministrative di Taranto. Siamo alle battute finali, come è stata questa campagna elettorale? Noi abbiamo puntato molto sui temi, sulle emergenze, su ciò che i cittadini attendono dalla politica. Abbiamo una serie di emergenze economiche, sociali e culturali, il Movimento 5 Stelle ha un programma credibile, ha delle soluzioni realizzabili e per questo motivo attendiamo questo grande consenso per poter vincere queste elezioni.